Quando vanno a suonarli? Basta. Dopo la mezzanotte ormai si comincia a sentirne qua. Ma DJ Fogliati non vuole certo fermare la musica. Possiamo tirare su le mani? Ma perci vedere le mani in casa tutti quanti su le mani, su le mani, su, 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 su. Adesso. Anche nel 2012 siamo noi a cadena grande stagione J-AX e non avremo lo status e saremo canziani indizionali. Anche sì, siamo passati poco, il telefono e i posti sono stati, forse non siamo quelli che sono, non so. Ma il mio pubblico io non lo capirei con nessun altro pubblico al mondo. Se lo sapete, se vi guardate intorno, guardate quello che sta a destra e a sinistra, quello che sta a destra e a sinistra, quello che sta a destra e a destra. Devo mai quale con piussino o no? Su, e ma riadento?